Bentornati su Fantavirus e benvenuti in un nuovo video. Oggi analizziamo insieme vari giocatori e il primo tra questi è Roberto Inglese, che senza la sosta per coronavirus avrebbe dovuto vedere la sua stagione e chiudersi. Ma invece è così, non è stato, le cose sono andate diversamente. Ovviamente al momento non è al 100%, ma sta cercando di trovare la condizione migliore e il prima possibile per prendersi il posto da tirolare contro un agguerritissimo Cornelius. Quindi notate bene che il rientro non sarà lampo dalla prima giornata, ma verrà gradualmente nelle giornate successive. Per voi il top sarebbe quello di averlo in coppia con Cornelius, però se avete magari il solo Cornelius e non sapete se prendere inglese, sappiate che potete farne anche a meno, però se lo volete a tutti i costi non toglietevi qualcuno che gioca titolare, perché non smetterò mai di dirlo in questo campionato giocato d'estate con partito nei tre giorni, ci sarà molto turnover e voi non dovete mai giocare in dieci. Restando in casa Parma troviamo un recupero importante in porta, torna Gigi Sepe, candidandosi prepotentemente ad essere il titolare della porta del Parma, quindi se avete rado e non l'avete ancora svincolato, se potete è ora di svincolarlo. E infine analizziamo Mitchell Dykes, il tersino olandese lo scorso anno era stato una vera sorpresa, un trattore, macinava chilometri sulla fascia sbagliando pochissimo, quest'anno invece si è fermato al 22 settembre e non ha più visto il campo, ora l'infortunio alle spalle e ha lavorato sin da subito con i compagni, sembrando anche in gran forma. È consigliato per la ripresa arruolabile nelle vostre pantaroise e può regalarvi oltre alla titolarità qualche buon bonus che fa sempre piacere. Bene ragazzi, il video finisce qui, vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.